il risultato 4 a 2 quindi sono nove punti in tre partite e quattro rubati e va di snove si poi c'è da dire che ad esempio rispetto all'andata abbiamo fatto già cinque punti in più quindi è un percorso ben definito la linea chiara quello che mi è spiacciuto oggi è che nel primo tempo i ragazzi fossero stati un po nervosi e ci sta perché non è facile non inseguire e sapere di non dover sbagliare avere un orecchio dall'altra parte ma il fatto di aver preso a loro nelle prime tre gare quattro punti sicuramente c'è di dare stimolo perché poi la strada tracciata è quella giusta e quanto più saremo concentrati solamente sulle partite che dobbiamo far noi tanto più sarà facile andarli a superare domenica il Codogno una delle trasferte lunga insomma ci prepariamo e cerchiamo di continuare questa nostra marcia perché poi la vetta adesso si avvicina la freccia l'abbiamo messa e vediamo anche loro da parte loro il fatto che non possono più sbagliare come si comporteranno grazie e complimenti grazie 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 grazie